La nuova M100 Cimbali è un omaggio alla grande tradizione del caffè espresso. Una sintesi di eleganza, affidabilità, risparmio energetico ed elevate prestazioni. La nuova M100 celebra così i primi 100 anni di successi del gruppo Cimbali. M100 consente di gestire nella sua totalità il processo di estrazione in funzione delle caratteristiche della miscela usata per ottenere le più elevate performance in termini sensoriali e di qualità in tazza. Abbiamo chiesto ad un caro amico, che della sua passione per il caffè ne ha fatto una professione tanto da diventare il pluricampione italiano baristi, di raccontarci le sue impressioni. Ciao, sono Francesco. Lavoro nel mondo del caffè da più di 15 anni e la passione mi ha portato a scoprire quanto sia meraviglioso questo mondo. Ho viaggiato per scoprire anche i paesi di origine, come Brasile, Honduras, Guatemala e El Salvador, dove ho avuto la fortuna di degustare caffè straordinari. Viaggiando ho scoperto quanto il mondo del caffè è in continua evoluzione e da barista devo dire anche che finalmente il cliente è sempre più attento alla qualità del caffè espresso. Come avviene con tutti i prodotti naturali, anche per il caffè sono molteplici i fattori che determinano le proprietà organolettiche, la qualità botanica, l'area geografica di provenienza, le condizioni climatiche, la raccolta, la lavorazione del verde, la miscelazione e la tostatura. L'espresso con la crema, come lo intendiamo oggi, in realtà nasce alla fine degli anni 40, con la macchina leva, la prima vera rivoluzione del caffè espresso. Con la leva, infatti, il barista caricava la molla che nella successiva fase di spinta sul pistone creava una pressione sul pannello di caffè oltre i 10 bar. Questo metodo di estrazione permetteva di ottenere una bevanda dalle qualità organolettiche superiori rispetto all'espresso ottenuto con la macchina a colonna. Nasceva così la crema caffè. Nel 1961 assistiamo alla seconda rivoluzione nel campo della tecnologia dell'estrazione dell'espresso. Faema, con la mitica E61, introduce la pompa volumetrica. L'acqua calda veniva iniettata a 9 bar costanti sul pannello di caffè. Oggi, dopo 50 anni, possiamo parlare di un'altra grande rivoluzione. Nasce la tecnologia GTHD che ci permette di personalizzare l'estrazione dell'espresso andando ad interagire sulla temperatura dell'acqua e sui profili di pressione. Temperatura dell'acqua e pressione di estrazione sono le variabili chiave di un espresso perfetto. Per poterle controllare simultaneamente, Cimbali ha brevettato la tecnologia HD High Definition che consente di gestire e guidare il processo di estrazione in modo semplice e intuitivo. Infatti, M100HD non solo permette la massima flessibilità nella regolazione della temperatura di erogazione, ma regala al barista una marcia in più. La modulazione elettronica della pressione dell'acqua attraverso il settaggio del profilo ideale. La trasformazione del caffè in espresso passa attraverso tre fasi, pre-infusione, infusione, fase finale. A temperatura costante, aumentando la pressione durante la fase di pre-infusione, possiamo modificare il corpo dell'espresso. Aumentando la pressione durante la fase di infusione, è possibile incrementare corpo e acidità. Per finire, volendo esaltare l'amaro, sarà sufficiente abbassare la pressione nella fase finale. Ma ora, con l'aiuto di Francesco, passiamo alla pratica. Manteniamo costanti temperatura, dose caffè, macinatura e vediamo cosa succede impostando per ogni gruppo curve di pressione completamente differenti. Il gruppo di sinistra inizia ad erogare con netto anticipo rispetto a quello di destra, avendo impostato una fase di pre-infusione più breve, ma con una pressione più alta. L'erogazione si presenta ricca, decisa e viscosa. La crema è di color nocciola tenue. Nel gruppo di destra, la fase di pre-infusione è più lunga e con una pressione a un bar. Come si può notare, l'erogazione si presenta più lenta. La crema è di un color nocciola più scuro rispetto al primo espresso. Come dimostrato, la sola pressione, modulata in maniera differente per durata e livelli, è in grado di modificare l'estrazione e conseguentemente le caratteristiche visive e soprattutto organolettiche dell'espresso. M100 è tecnologia, è anche ergonomia, gestione del latte con lancia Milk 4, connettività Bluetooth e Wi-Fi, risparmio energetico. Chi fa della passione per il caffè una professione, troverà nella nuova M100 una perfetta consonanza tra prestazioni, qualità in tazza e design, per soddisfare ogni esigenza di preparazione e di consumo. M100 è la macchina studiata per voi che desiderate offrire ai vostri clienti un caffè espresso perfetto. Ora, tocca a voi provarla. Grazie a tutti.